Salve a tutti, sono Marco Bellavia, sono studente del primo anno del Politecnico di Torino e sono iscritto in ingegneria in informatica. Questo secondo semestre seguo il corso del professor Andemarte in rivoluzione digitale e con altri miei due colleghi, Simone e Salvatore, abbiamo aperto un blog su Tumblr, WebLife. All'interno di questo blog discuteremo di come le piattaforme sociali come YouTube ha cambiato la vita di molte persone e anche i nostri coetanei. Di conseguenza spero che possiate trovare interessanti le nostre discussioni, le nostre domande e i nostri post appunto. Quindi vi lascio il link in descrizione.